Si rinnova questo conviviale, questa festa alla quale tengono i San Benedetti e non solo? Sicuramente è la festa della città, la festa del patrono, quindi la festa della città, dei San Benedetti, ma di tutti coloro che si sentono parte integrante di questa città, quindi anche coloro che hanno scelto San Benedetto come luogo per vivere, per lavorare. In merito alla festa del patrono abbiamo diversi eventi, c'è il Gran Pavese, avremo la visita dei nostri cugini di Viareggio che verranno a trovarci con un numero sostanzioso di persone, quindi ci fa anche piacere perché andremo a festeggiare poi il trentesimo anno di gemellaggio. Io negli ultimi due anni ho partecipato attivamente alla festa del Carnevale e siamo entrati anche noi nella loro famiglia. Per la festa io sono convinto che gli eventi che sono stati messi in pista sono eventi belli, musicali, cabaret, intrattenimento e godiamoci queste giornate di grande festa ma anche di grande allegria. Quest'anno abbiamo innanzitutto un momento particolare della festa che ogni cinque anni facciamo la ricorrenza del passaggio a mare della statua di San Benedetto Martiri per ricordare proprio il martirio che da Cupra poi venne trasportato nella leggenda anche dai delfini fino alla foce del Torrente Alvolo e quindi ripercorreremo in collaborazione con Cupra il triduo si farà giovedì 10, 11 e 12 a Cupra Marittima nella chiesa di San Basso con Don Roberto Traini in parroco e poi la festa del 13 verrà effettuata qui in parrocchia da noi. Quest'anno poi ci sarà la processione che partirà dal porto, dalla banchina Malfizia a Riva Nord poi passerà per il centro di San Benedetto del Trondo per arrivare in piazza Bicepiacentini dove vivremo insieme la celebrazione con il vescovo Palmieri e poi grande festa con la banda, con anche lo spettacolo di quest'anno dell'Associazione Culturale Bonadea che riproporrà uno stralcio della vita di San Benedetto Martiri.